Ciao ragazzi, benvenuti a questa seconda puntata sull'arrangiamento di un brano inedito. Oggi vedremo la registrazione delle chitarre elettriche, suoneremo le parti di tastiera, incideremo la voce principale e i cori, ma subito dopo la sigla! Cappello, il setup che ho scelto è molto semplice, chitarra Fender Stratocaster, amplificatore Fender Blues Junior con una saturazione non troppo esagerata e poi ho un EP Booster e un Tube Screamer TS808, tutto qui. Poi il resto eventualmente delay o altri effetti li metteremo poi in fase di mix. Entriamo subito nel pre-ritornello. Nel ritornello faremo un arpeggio ostinato sulla seconda, terza e quarta corda e cercaremo di cambiare meno note possibili al variare dell'armonia. Subito dopo c'è un'altra strofa, lasciamo spazio alle tastiere per cui non suoniamo, rientriamo sempre nel pre-ritornello suonando la parte di prima, quindi riselezionando il pick up al manico, cercando di suonarla con una maggiore intensità, visto che il pezzo sta crescendo. Perfetto, siamo adesso sul bridge, prima degli ultimi due ritornelli. per cui la chitarra adesso deve essere abbastanza incisiva, per cui farò delle triadi sulla zona centrale del manico. faccio tutte e due, una left e una right. la doppiamo. siccome la sento ancora un po' vuota, è vero che mancano ancora tutte le parti di tastiera, però metterei una chitarra sempre con il suono crunch che ho messo nel pre-ritornello, che fa degli accordi semplici aperti. adesso è sicuramente più piena, siamo arrivati al ritornello finale e adesso siccome dobbiamo spingere un po' di più, magari è il caso di cambiare chitarra. gibson all'esport. mettiamo quindi un ostinato ancora. perfetto, questa traccia l'ho tenuta praticamente fino alla fine. ok. mi sembra che abbiamo tutto. adesso non ci resta altro che chiamare il tastierista per completare questo arrangiamento, dopodichè faremo le voci e i core. ragazzi oggi stiamo registrando le tastiere con il maestro Emanuele Bruno, grandissimo tastierista e pianista ovviamente. maestro cosa ci mettiamo? un piano il pad? vai. siamo ai due ritornelli prima del bridge e incominciamo a introdurre il tema. che abbiamo sentito all'inizio. ritornello finale, il piano con il tema più evidente. il suono molto più aggressivo. è il mondo. e adesso la cosa più importante di tutto quanto il caffè. è il caffettino. caffettino. ahahahah. perfetto ragazzi, adesso non ci resta altro che incidere la voce definitiva con i cori. grazie. grazie 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 per avermi seguito grazie grazie iscriviti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ciao e ci vediamo con il prossimo video. Buona musica!